ciao amici secondo la yurveda puoi perdere fino a 3 chili a settimana se consumi zenzero e limone in questa combinazione perfetta per la perdita di peso e riduci grassi saturi animali come formaggi e latticini carni rosse grasse come i salumi e lo zucchero bianco troppo bello per essere vero lo zenzero è una radice nota in tutto il mondo per le sue proprietà salutari soprattutto come anti infiammatorio e per la proprietà carminativa amica dell'apparato digerente in yurveda questa radice viene utilizzata come formula dimagrante per le sue numerose proprietà che favoriscono la perdita di peso non solo migliora le funzioni digestive ma anche un effetto termogenico che aiuta ad attivare il metabolismo rendendolo un potente brucia grassi e brucia calorie il limone è un altro dei cibi farmaci naturali che promuove la salute in diversi modi ed è considerato un agente dimagrante naturale il contenuto di vitamina c lo rende un antiossidante molto efficace che promuove l'eliminazione delle tossine dal corpo combatte la ritenzione idrica aiuta a disintossicare il corpo e contribuisce a una riduzione del gonfiore addominale com'è possibile perdere peso con zenzero e limone perché sono ingredienti che promuovono l'eliminazione di grasso e tossine dal corpo usati insieme sono considerati una potente formula naturale dimagrante che può aiutare a integrare la dieta per dimagrire vediamo come preparare entrambi questi ingredienti per accelerare il dimagrimento pronti prima di vederlo mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come fare il tè allo zenzero e limone detox dimagrante brucia grassi fai bollire una tazza d'acqua una volta che bolle spegni il fuoco aggiungi diverse fettine di zenzero e lascia in infusione per 10 minuti coperto passati 10 minuti aggiungi il succo di un limone ed è pronto da bere facile no è meglio bere questo tè prima di colazione così si gode di tutti i benefici per tutta la giornata elimina le tossine combatte il colesterolo cattivo ldl depura il corpo da tossine scorie rafforza il sistema immunitario mantiene la pelle giovane sana e idratata favorisce una buona digestione e combatte i problemi digestivi zenzero e limone sono come due buoni amici da affiancare al giusto movimento fisico e a due litri di acqua ogni giorno così è più facile perdere i chili di troppo che ci portiamo sempre addosso per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia sano e vivi meglio